Con noi il dottor Giuseppe Di Bella. Ciao Giuseppe, come va? Buonasera, molto bene, grazie. Siamo nel tuo studio e voglio far vedere che c'è il grande professor Luigi. C'è un tema che in questo periodo qui a Radio Radio abbiamo toccato spesso, anche con dei ricercatori. Non è scienza vera tutto quello che non è pubblicato nelle grandi riviste scientifiche, è vero? È stato smentito radicalmente da personaggi autorevoli da un punto di vista scientifico ed etico. Primo, il Nobel Shekman ha detto che alcune grandi riviste pubblicano unicamente se i risultati sono conformi al loro fatturato. E' grave l'accusa, però viene da una fonte autorevole la quale ha fatto questa esperienza personale e ha denunciato questi limiti. Ma non è unica, ci sono conferme altrettanto autorevoli di editori capi di riviste internazionali al massimo livello, Orton, editore capo di Lancet, quale ha scritto letteralmente che almeno il 50% di dati pubblicati su grandi riviste, che poi vengono utilizzati per registrare farmaci dai vari ministeri, sono falsi. Ha usato questa parola alla lettera. Almeno il 50% pubblicato su grandi riviste, alcuni delle quali sono di proprietà di multinazionali del farmaco. Per cui la ricerca che può mettere in crisi il fatturato, creare dei problemi o presentare farmaci concorrenti, non viene pubblicata. Ma non è solo Orton, editore capo di Lancet. Se la professoressa Angel, editore capo di una delle massime riviste, New England, ha dato le dimissioni, è arrivata alla saturazione, confermando e sottoscrivendo in pieno quello che ha detto professor Orton. Dice ormai le grandi riviste internazionali pubblicano dati conformemente, unicamente, ai loro interessi. Per cui il conflitto di interesse sta inquinando in maniera ormai inassettabile la ricerca scientifica. Giuseppe, esistono ricercatori, scienziati che sono indipendenti da tutto questo? Ci sono ancora degli scienziati liberi, indipendenti. Fortunatamente stanno crescendo. Si sta diffondendo la consapevolezza della necessità urgente di una revisione etica, di portare la medicina da una deriva commerciale e speculativa alla sua origine ipocratica, basata sul dato di fatto, sulla verità. Questi sono elementi base, etici, scientifici e morali della medicina ipocratica va ricordotti a questo livello.